ora ci si può abbonare al canale, si avrà così accesso a contenuti dedicati ed altri vantaggi esclusivi è già mezzogiorno eh, non è che proprio l'alba allora abbiamo fatto un pochino di spesa, giusto due cosine bene di prima necessità tipo le Pringles, Wüstel e Kartoffel Salat siamo in ferie, abbiamo 12 giorni e voglio girare un pochino che non so veramente dove andare ho soltanto come prima meta di andare a trovare un amico, un caro amico che sono anni che vogliamo incontrarci ancora non ce l'abbiamo mai fatta, ma forse questa è la volta buona, so dove si trova e piano piano cerco di raggiungerlo oggi ci dirigiamo verso il sud dei Grigioni, quindi non prendiamo l'autostrada ma ci avviamo proprio verso Poschiavo e lasciamo la Svizzera attraverso il Bernina prossimo e oggi facciamo un nuovo passo, l'Albula Pass, addirittura limitato a 3 metri e 30 d'altezza non l'ho mai fatto, neanche in larghezza a 2 metri e 30 sono curioso, speriamo che non sia accio e che sia anche bello da vedere e siamo arrivati al passo, al Bula Pass 2315 metri dal livello del mare però non lo so se ci fermiamo, dobbiamo fare anche un altro passo, ovvero il Bernina mi sarei dovuto fermare almeno un paio di volte qui a far volare il drone perché ci sono stati dei punti veramente belli perdonatemi, perdonatemi la belgrizia ma a volte è proprio più forte di me è veramente particolare fare i passi e cominciamo a scendere, cominciamo a scendere verso San Moritz e ora mi trovo vicino San Moritz, nell'alta Engadina e siamo infatti a 1739 metri è alto eh e qui l'inverno è freddo arriva facilmente a meno 20 e ci siamo incamminati verso il Bernina Pass e guardate davanti a noi quella montagna completamente bianca non è quello il passo ma spicca perché è una delle poche montagne che ha ancora neve ma veramente è coperta di neve e mi sono dovuto fermare un attimo per guardare queste montagne completamente bianche figate c'è un ghiacciaio e si tratta del pizzo Bernina 4048 metri 4048 metri spettacolo e c'ha il ghiacciaio magari anche qui a tornarci a fare una scarpinata non sarebbe male e qui sotto ci passa il Bernina Express che prima o poi devo prendere assolutamente lago bianco passo del Bernina e qui l'aria freschetta e mangio qualcosina prima di ripartire buon appetito ed eccolo il passo del Bernina 2330 metri bello eh abbiamo passato anche Po Schiavo a breve c'è il confine a breve si entra in Italia poi ci sarà Tirano ed eccoci alla frontiera Svizzera Italia e questa è la frontiera italiana ah si c'è un signore no ok è arrivato posticino tranquillo tranquillo andiamo a vedere un pochino cosa c'è in zona e c'è questa strana costruzione questa strana baracca qui sembra che qualcuno ci vive oh c'è uno del posto cerchiamo di non disturbarlo salve mi scusi ma per Roma per Roma dove è Roma per Roma la capitale e che ne so io non lo sa devi andare da quella parte da quella sì dove c'è il mare tutto a posto sì serve aiuto che cos'è quella cosa ah scusi niente insomma ragazzi in quella capanna ci vive quell'uomo quel ragazzo oh mi sa un po' strano non lo so forse è meglio se mi sposto I'm going back up to make my last stand I'm gonna dust it off with my own hands black men's are coming old man keep running you better get out while you can we would broke the cold let it push down thought I heard it so to up and leave this town head out west they say maybe California leave this dead land behind so all along Oklahoma I think they said farewell to me sleep beneath the stars in California dreaming of that old used to be I'm going back up until I can't stand I'm gonna cut it down with my own two hands tall timber falling I hear Tulsa calling saying won't you come back when you can so all along Oklahoma I think they said farewell to me sleep beneath the stars in California and the moon and the moon dreaming of that old used to be to me so trenta c'è sto ragazzo che mi sta seguendo forse so io che seguo a lui vuoi delle schienze? no sa che ci sono delicato d'intestino aspettiamo come lancia le grete? lancia le grete? lasci dietro di te la scia per ricordarci una stata sta piovendo si si è poco poco non volevo prendere la macchina io ti ho detto prendiamo la macchina non è vero sei un bugiardo tu hai detto prendiamo la macchina eh oh già meglio invece no prendiamo l'acqua prendiamo l'acqua però non è freddo ma adesso si sta benissimo benvenuti a Chiuro città dove giace nascosto l'inatteso siamo a Chiuro questo è proprio Chiuro paese si è il centro il club con nazi che mi fa da Ciserone non è male fa se tu passi questa praticamente sarebbe una cascata a Chiavenna poi ci passi no? si si ma scusa ma chi è questo nazi sono quelli un po' antipatici voglio credere i viaggi che faccio lo faccio perché ho dei progetti futuri ragazzi miei come al solito mi è successa una Dariata sono qui con questa persona mi sono dovuto far dare il cellulare da Nazario perché sono riuscito a chiudermi fuori dal furgone non ridete chi ride è una brutta persona chi ride è una brutta persona ragazzi guardate che bel furgone che non è un Ducato c'è un Nazario me lo sta a ditte tutti i colori le chiavi l'osmo action il cellulare ho soltanto il portafoglio perché tutto a me mi devono succedere ragazzi non mi è mai successo che si chiudesse da solo ma infatti non si chiude da solo che vuol dire soltanto una cosa questo è molto più nel prossimo video non dimenticate di lasciarmi un pollice in su iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto vi ringrazio della visione a presto e ciao ricordatevi di volervi bene